Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati, buon sabato 26 settembre a tutti. Come abbiamo anticipato ieri abbiamo fatto conoscere un po' meglio chi è Ödj. Oggi vogliamo darvi un'informazione, ovvero l'attaccante norvegese del Bodo Glimt, secondo quanto riporta a Milan News, nelle scorse ore è stato proposto al Milan. I rossoneri però lo conoscevano già molto bene perché lo staff coordinato da Moncada aveva, grazie alla relazione degli scout, aveva in qualche modo seguito già negli scorsi mesi il talento del 99 norvegese. E quindi il Milan allo stato attuale potrebbe prenderlo, potrebbe acquistarlo velocemente, in tempi molto rapidi, per non lasciarsi sfuggire un grande talento. Un grande talento che è seguito, secondo le nostre fonti, dal Manchester City e dall'Ajax. Quindi, nonostante le priorità di mercato siano di carattere difensivo, il Milan vuole provare a prendere questo calciatore, che rappresenterebbe un'alternativa, un giocatore molto importante per il reparto offensivo rossonero. Quindi sono in corso delle valutazioni, sono in corso delle valutazioni tra la dirigenza dell'area tecnica rossonera, insieme al CEO Ivan Gazzidis. E oggi potrebbe essere un rinforzo importante per l'attacco a questi contenuti e soprattutto con un ingaggio ridotto. Infatti, come abbiamo detto ieri nel nostro precedente video, ÖG prende una cifra intorno ai 300.000 euro in Norvegia, quindi al Milan potrebbe prendere tra i 500.000 e i 700.000 euro all'anno, che per un giocatore del suo talento, della sua età, sarà una cifra sicuramente importante, ma ben ridotta rispetto alle cifre che circolano attualmente in Italia. Parliamo adesso di Zlatan Ibrahimovic, parliamo di come Pioli ha intenzione di sostituire lo svedese per le prossime partite di campionato. Si sa che Stefano Pioli di settimana in settimana cerca di studiare la migliore formazione da opporre al crotone e cercando anche di capire la formazione che può in qualche modo essere la più pronta, la più fresca mentalmente e fisicamente dopo l'impegno di Europa League per appunto portare avanti questo buon inizio di campionato e andare avanti a vincere. Dopo la vittoria contro il Bologna il Milan vuole vincere anche a crotone. Quindi il Milan oggi farà anche i tamponi, quindi i risultati arriveranno poco prima della partenza per la Calabria. L'unico dubbio del tecnico emiliano è il vice Zlatan Ibrahimovic. Contro Bodo Glimt abbiamo visto che è toccato a Colombo, che ha fatto molto bene, che ha giocato una buona partita, che ha realizzato un gol e molto probabilmente, secondo quanto ci risulta, potrebbe essere Rebic, ante Rebic a sostituire nella partita contro il crotone Zlatan Ibrahimovic. Quindi la formazione potrebbe essere con Donnarumma in porta, con Calabria, con Chiere e Gabbia ancora in mezzo, con Teo Hernández a sinistra, davanti a difesa confermati che sì, e Ben Nasser, trequartisti, Cialanoglu, ottimo partita contro il Bodo Glimt, Castiglieco e Salemekers, davanti gioca il grande ante Rebic. In Portogallo invece cosa succederà? Pioli avrà due soluzioni, puntare ancora su Colombo, che ha segnato nel turno il preliminare contro il Bodo Glimt, oppure cercare in qualche modo di accelerare il recupero fisico di Leao, reduci dal coronavirus anche lui, che però ha fatto 25 giorni di quarantena e quindi al momento non è al top della forma. Quindi una cosa è certa, non dovrebbero arrivare rinforzi d'attacco nel breve termine, se non il ragazzo del Bodo Glimt, e quindi siccome Pioli ha tutta l'intenzione di andare avanti con il 4-2-3-1, nelle prossime tre partite saranno importanti non perdere punti, nonostante l'assenza importante di Zlatan Ivremic. Le soluzioni sono tre, le soluzioni si chiamano ante Rebic per il campionato e per la Coppa Europa League, l'ultima partita in cui Rebic sarà squalificato, ma l'Europa League sarà terra di Rafael Leao e di Colombo, proprio Rafael Leao, portoghese, che ha delle amicizie appunto nel Rio Ave. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.